Che cos'è accaduto? Che cos'è questo freddo? E dove sono i miei... Amici? Amici? Ehi, amici! Ehi! Cyborg! Cyborg, grazie al cielo, sei... Che sei tu per distruggere... Stella! Sei Stella! Non ci posso credere! Non... Non sei invecchiata di un giorno! Oh, Cyborg! Che cos'è successo? Perché sembri così? Vecchio... È quello che succede alla gente quando la rivedi dopo vent'anni! Cosa vent'anni? Sei scomparsa, Stella! Quella battaglia con Proxy è stata tanto tempo fa! Sei finita in un buco a spazio temporale! Benvenuta nel futuro! Il futuro? Ma... Io ho danneggiato la sua tuta! Proxy aveva in mente di fare un salto di cent'anni, giusto? Sembra che tu lo abbia bloccato a venti! Oh, eppure sono ancora così confusa! Dimmi, perché sembri così malandato? Diciamo che le cose non sono state il massimo da quando te ne sei andata! Ma dove sono gli altri Titan? Dove sono i nostri amici? I Titans appartengono al passato, Stella! I tuoi amici non sono più amici ormai! No! Ti sbagli, Cyborg! È tutto... È tutto sbagliato! Come può una cosa così terribile? Proxy! La sua interferenza nel passato deve aver cambiato il nostro futuro! Stella, io non credo... È lui la causa di quanto è accaduto! Lui ha costruito questa tecnologia! E lui è quello che può aggiustare le cose! Dobbiamo riuscire a trovare Proxy! Mi aiuterai, Cyborg! Vorrei tanto poterlo fare, ma l'ultima batteria è partita anni fa! Ho cercato di adattare questo affare ai miei circuiti, ma... Non posso lasciare la torre, Stella! Non solo che è un rottame! Forse uno degli altri ti può aiutare! Ti dirò come trovare Bibi e Corvina! E Robin? Ho perso i contatti da anni! Se vuoi cercarlo, devi farlo da sola! Puzzi di capra, suino! Non ci posso credere! Sei tu! Come è possibile? Bibi, ho bisogno del tuo aiuto! Che genere di aiuto? Il futuro non è come dovrebbe essere! Dobbiamo trovare Proxy! Ti libererò da questa specie di... No, 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 aspetta! La gabbia non è per chiudermi dentro! È per tenere quei teppisti fuori! Ascolta! Dopo che i Titans si sono sciolti, ho tentato la carriera dell'eroe solista e sono rimasto scottato! Per cui adesso io... E poi... Sono nel mondo dello spettacolo ora!